Hello everyone, welcome back to my channel, oggi sono ancora al parco perché fa un caldo a Milano e niente, faremo ancora gli esercizi per gli abdominali, ci saranno 4 esercizi in 3 serie e 10 ripetizioni e niente, un piccolo consiglio, per tutto nella vita ci vuole la constanza, allora quegli esercizi che faremo se seguite tutti i giorni, lo farete tutti i giorni, vedrete più risultati, più veloce, ok? Iniziamo! Allora, per fare i esercizi di abdominali, quello che voglio fare oggi, ci servono soltanto, ci serve, un palone così penso che tutti abbiamo un palone così a casa, quello del nostro bambino, non lo so, o se no, se non avete un palone potete prendere, non lo so, un cucino, qualunque cosa, lo potete fare al parco, se no a casa, ovunque, ovunque comunque si può fare questi esercizi, ok? Allora, iniziamo! Il primo esercizio, vi faccio vedere prima gli esercizi, poi dopo li faremo, 10 ripetizioni in 3 serie, ok? Il primo esercizio è Flank, allora, così, Flank base, ok? Il secondo esercizio Flank, con mani alzate, ok? Il terzo esercizio, leg raise, così, alzate il bacino, ok? In questo modo, sempre addome in contratto e respirate, poi il terzo, il quarto esercizio è quello che abbiamo bisogno della palla, palla, pallone, allora, si fa così col palone, il movimento è così, poi prendiamo il palone, guarda, la palla, il palone, così, la poggiamo giù e l'alziamo, e prendiamo, ancora, per farvi vedere bene, ok? Posto! Allora, come avevo detto... Allora, come avevo detto... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.